Diciamo che questo è un discorso più, forse volevo chiedere più, forse a Irene, a parte anche Loretana sta per laureare in sociologia adesso, cioè perché già laurea, sapete la seconda laurea in sociologia tra l'altro, non lo dice Loretana, non lo vuole mai dire. Quanto influisce invece questo tipo di, sul prete, quello che è la mancanza di effettività, quanto può influire poi a livello della sua conduzione diciamo proprio biologica, della sua vita in l'iter biologico? Cioè dici quanto della cassità del prete poi influisca sulla sua psiche ma anche nel, in qualche modo, diciamo che il prete anche se poi pensa a determinate cose, in qualche modo deve per forza di cose ostentare dei tabù, ecco, quei tabù sono quelle barriere, sono quasi imposte, quelle barriere mentali, mentre la persona... Beh ma c'è quello che ci crede...